Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video dedicato a LOL Surprise Ho qui LOL Surprise OMG della terza serie Lei precisamente è Roller Chic La sorella maggiore di Skate Questa sarà una delle mie preferite perché sta sui pattini Compiace a me Queste sono le quattro nuove bambole che si possono trovare della terza serie Quindi abbiamo Killax, Class Pretz che già ho aperto, la Roller Chic e Da Boss Apriamo e vediamo la nostra Roller com'è Sicuramente sarà molto carina come la sua sorellina Eccola qua Qua abbiamo i vestiti e qua c'è la bellissima bambola E qua c'è la sorellina, eccola Eccola qua Che bella, che bei colori di capelli Allora, apriamo prima i vestiti e gli accessori E poi vediamo la bambola Allora, il suo libricino dice che è del segno dei pesci Allora, vediamo qui cosa troviamo Allora, qua abbiamo un jeans Qui abbiamo una giacchetta tutta colorata, molto carina E dietro c'è un disegno tipo palme Molto carina la giacchetta Poi apriamo la scatolina Foxia Vediamo se ci sono i pattini Vediamo, vediamo Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì No, sono bracciali Questi altri braccialetti Perché questi sono gli orecchini Eccoli Modello lampadario Ok, quindi abbiamo braccialetti e orecchini Tiriamo fuori la bambola Eccola qua La base è verde Anche la spazzola è verde Allora Vediamo con questa busta Forse la borsetta ci sarà Vediamo, sì, oddio, che carina C'è delle bellissime trecce Il colore del capello è meraviglioso Anzi, è il doppio colore Vediamo se è pronta per uscire No, non è pronta per uscire Eccola Eccola qui Finalmente, com'è carina Allora Il viso è molto carino I capelli sono fucsia E poi ci sono delle mesh Color rosa chiaro pesca Non so se si vedono Si Porta in testa i chignon E poi queste trecce C'è questo bellissimo toppicino Col pantaloncino corto Pure bellina così In effetti Che dobbiamo metterci il jeans Però forse è più bella così Col pantaloncino corto Poi c'è i calzettoni Ah, il jeans è elasticizzato Lo credo con queste cosce Ma Io sinceramente la lascerei Col pantaloncino corto E' più divertente E' anche più estiva Allora Ci dobbiamo mettere la giacca Solito movimento di mani Le unghie sono Un bardino Ormai siamo esperte Ne smontare le mani Alle povere LOL Eccola Allora Vediamo un po' Gli orecchini Eh E' un'impresa No Penso ce li dovrò mettere dopo Questo è entrato Ecco qua E' andato Allora questi qua Saranno braccialetti Sicuramente Che sono aperti Sì Ce li metto così Poi vedo dopo Questo è un polsino O polsino braccialetti Chiamarli Ecco No cadono Può darsi pure Non sono braccialetti Beh io vedo sempre Vabbè questa è la nostra Bambolina E poi dopo Con calma Ci devo mettere i pattini Ci vorrà un po' Di tempo Per ficcarceli E questa E' Roller chic Davvero Davvero Tanto Carina Con gli occhiali Alla lolita Ok Io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi mando un bacione E alla prossima Ciao ciao